ciao creatura io sono ecco di splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di good life ASMR allora siamo già con la premessa che sono andata da tiger da tiger a fare compere di halloween ma non ho comprato niente metti like e iscriviti al canale e consigli al mio canale a tutti i tuoi amici a tutte le persone che conosci a tutti i tuoi profili fake a tutti i tuoi parenti i tuoi nemici di halloween ho comprato praticamente tre cose e due sono tutte caramelle quindi wow ma il video non durerà due minuti perchè ho preso una mystery bag orribile sono sicura che farà schifo e quindi sarà perfetta per halloween perchè sarà orribile comunque non l'ho ancora aperta ma sento una sensazione che sia orribile perchè ce ne erano tante quando sono arrivata c'era un gruppo di bambine adolescenti erano più bambine da soli che facevano un casino della non lo so neanche come definirla della M facevano urlavano facevano confusione e si sono comprate un botto di boosted tiger e quando sono arrivata io non ce ne erano più quindi ce ne erano più e allora ho preso questo ma ho l'impressione cioè sono rimaste quelle più leggere e ho l'impressione che sia stata proprio una fregatura ma non importa perchè l'ho acquistata per farci video l'avevo acquistata per farci un video a parte invece la apriamo questa sera anche se non sono cose di halloween però era perchè sennò con le cose di halloween che ho acquistato sarebbe avvenuto un video troppo corto e non non sarebbe stato rinassante comunque ho riacquistato in realtà ho acquistato per la prima volta però le avevo già mangiate perchè Fraffo l'anno scorso o l'altro anno adesso non mi ricordo perchè mi sono un po' confusa col tempo io mi confondo non riesco mai dico sempre l'altro giorno poi parlo di 20 anni fa per esempio quindi vabbè dettagli e un halloween mi aveva regalato mi aveva omaggiato non so se mi segue ancora Fraffo comunque mi aveva omaggiato di queste caramelle gommose come le chiamo qua caramelle gommose no caramelle spumose al gusto frutta e sono a forma di teschio riesco a fare meno rumore possibile queste qui sono queste qua e sono a forma di tutti i teschietti 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 verdi rosa gialli hanno tutti lo stesso sapore di frutta ma sono buonissime infatti le mangiavo pian piano poi dopo l'ho finita ovviamente anche perchè sono 80 grammi e ho detto non vedo l'ora che arrivi a lui per comprarmele e ho comprato beh tre sacchetti perchè un euro l'una un euro l'uno di sacchetti e mi piace sia la consistenza che il gusto il gusto è tipo un po' chimico ma la consistenza è stra buona e quindi se vi capita acquistateli perchè cioè sono da provare sono una specie di droga una droga dirò perchè su youtube non si può dire non lo so comunque ha testimonianza che ne ho acquistati veramente tre pacchetti e sono buonissime poi ho trovato un euro e cinquanta anche queste caramelle che un po' mi ispiravano un po' sempre di halloween che poi alla fine probabilmente danno solo l'involucro di halloween quelle si hanno una forma di teschio quindi ci stanno caramelle dure con copertura a sprigna a sprigna ok c'era scritto caramelle la frutta a sprigna ok del genere e hanno sempre la confezione nera ma all'interno hanno ogni mini confezione nera con un teschio disegnato solo non so all'interno penso siano normali caramelle di forma dico solo che c'è un teschietto disegnato oggi un colore diverso ogni cosa potrei anche provarne uno non lo so magari più tardi e questi sono 90 grammi gluten free vegan 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 di halloween ho comprato appunto queste caramelle e un oggetto un oggetto soltanto che è troppo bello quando l'ho visto ho detto ok questo lo devo comprare perché mi serve sicuramente anche per degli outfit e anche per l'estate o anche non lo so quando gli attacchi di panico mi viene caldo perché noi abbiamo gli attacchi di panico con stile giustamente ed è questo ventaglio che non si vedrà perché è nero su nero ecco a te che cosa no no si vede è troppo можно e bellissimo perché mi piace che ha questo pizzo 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 nero con tutte rose nere quindi è molto gotico e di solito questi ventagli costavano 3 euro E di plastica nera E senti che fresco che fa Ho sentito che fresco che fa Fa un cazzo No, fa un po' Però diciamo che è più da bellezza Che da frescura Però è bellissimo Guarda, la zona è molto mordissima A parte il make up Che non è da mordissima Non so perché ho fatto questo make up L'ho fatto random in bagno prima Non mi sta neanche malissimo Comunque si vuole fare qualcosa di creepy Ma sembro tipo un leone Non so, vabbè Comunque questo è molto figo Cioè l'ho preso più per l'estetica Che per l'utilità Perché il pizzo qua che fa passare l'aria Cioè non è che faccia molto fresco Però è troppo cool per me Quindi L'ho acquistato per quello Questo lo userò tipo Non so Con anche dei guanti Di Pizzo che ho No Più questo Poi qualche vestito gotico Vai a comprarmi anche Quelle specie di Cinture per il corpo Non so se Insomma che vi ho mandato quel paese Quelle cinture per il corpo Belle Che ho visto anche su Scinda Tipo E Ho altri siti Aliexpress Quello che è Insomma Sì Cinesi Ancco E Da mettere Però Non lo so Devo pensarci Come Se è una gotica Fammi sapere Voglio provare Se ne lo facciamo Dopo il video Anche perché Mi sa che dopo Halloween Mettono le cose in offerta Quindi Forse è anche meglio Comunque Poi mi sono comprata Latte e il cioccolato Costava un euro Avevo sete Era lì Super rigolo E ho detto Beh dai me lo compro Ma è buonissimo Buonissimo Super Super top E E poi Con un euro Con un euro Mi sono presa questi Perché sono troppo buoni Poi anche per i video ASMR Ma penso che li mancherò Senza farci il video Però sono troppo buoni Soprattutto questi Tutti i frutti Però ho preso anche arancia Perché Ah sì Visto che Con un euro Cambio gusto E adesso arriviamo Al pezzo forte Ovvero La mystery box Bag Più che box Questa qui Che non è di Halloween E Sicuramente farà schifo Ma sarà Un perfetto clickbait Per il titolo Di questo video Tipo Da po' Talmente brutta Da far paura Una cosa del genere La vorrei mettere Così andiamo a Halloween Solo per farcelo Centrare Con Centrare Con Halloween Che genio Sono un genio Sto scherzando ovviamente Sono una divinità Quindi ci sto Adesso speriamo Che non sia bello Altrimenti non posso più Mettere il titolo Allora Questo già Ho visto Che fa schifo E che non posso usare Vediamo Allora Addirittura Ho strappato Un 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 palloncino Palloncino In alluminio Adatto per l'elio Con scritto 8 Che però Può essere anche Un Infinito Verrà usato come infinito Ma non verrà usato Perché Non ho l'elio E non uso Bolloncini C'è Sono le campane Poi Spero che non si sentono E se si sentono Pazienza C'è una cosa nera Qua Vediamo Wow Un'utilissima Orca Spara Acqua Tipo Pistola D'acqua Farò una foto Emo così Una pistola D'acqua Orca Utilissima Però è nera Quindi ci sta Anche con gli outfit Di adesso Mi la metterò Nello zainetto E poi Schizzerò Le persone No Non è vero Sono mai Non mi era venuta Una cosa Ma la capriamo in testa Ma Da meglio Non dirla Comunque Vabbè Posso regalare A qualche Bimbo Un bimbo Poi Immaginavo C'è qualcosa Di Soft Tipo Tipo Stombo Confuso Da stoffa Basta Ce l'ho Più Già Continuo a trovare Queste Borse Ce l'ho Quale identica Non è piaciuta A nessuno Quello Le rifilano Sempre Nelle mystery Pack Questa borsa Che ho scritto Everyday Hero Con Shopping Vi prego Trovatemi Un'utilità Per questa borsa Perché È piccola C'è un manico Non ha Non ha una cerniera E quindi Trovatemi un'utilità Per favore Ne ho già due Che cavolo ci posso mettere All'interno Grazie Faccio anche un po' Di soft Spoken Ecco Sapevo io che trovo qualcosa Che mi serviva Accidenti Posso più fare il titolo Clickbait Una grattuccia Grattuccina E questa E questa Non ce l'avevo Quindi per forza Mi potrebbe servire Perché non ce l'avevo Tipo Per grattucciare La scorza Del limone Io non ce l'avevo Adesso ce l'ho Grattuccina D'acciaio inox Che fa riflesso Ma secondo te Riesco a grattucciare Le carote a julienne Con questa Mini grattuccia Mi grattuccio Tutte le dita Ciao Guarda Pizzica Non ho più Unchie a mangiare Cioè non è che ho mangiato Tolto quelle finte Che avevo fatto Per fare un altro video Perché non riesco a usare Non riesco a Non mi ci trovo In ufficio A fare le cose Mi sembra di essere Spizzane Vabbè Troverò L'utilizzo Di quelle borse Cioè non so Aprirò Un negozio Di borse Cos'è sta roba? Ma porca miseria Anche questa è utile Allora questo è Pensavo c'è vostro Meno cose dentro Che era molto leggera Porta calze Da lavanderia Pensavo fosse Unchio di pacchetti Però sono utili Allora non le avevo mai viste E' perfetto per me Accidenti Perché io perdo sempre Le calze Quando le metto a lavare Le perdo Invece queste Credo Credo che si Dal disegno Dall'illustrazione Credo si Infilino in qualche modo Qui dentro Tutti i due calzini E poi non li perdi Cioè li butti a lavare E non li perdi Ma si lavano bene così Non lo so Io pensavo invece di Doverci infilare Dentro i pacchetti No? E E così Restavano chiusi Potrei usare anche per quello Io ormai trovo utilità Anche a cose che Hanno un'altra Mansione Ma non importa Certo Cos'è questo? Stencil Stencil Per Agenda Planner Personalizzabile Per fare dei triangolini Vabbè Vabbè Soprò più un Oggetto da designer Da design Aesthetic Egizio Più che una cosa per fare disegno E uno stencil Però Vabbè Ci accontenteremo Lo useremo come stencil Anche se la mia idea Era più elegante Allora Dice Cordino per occhiali Formato da Tanti piccoli occhiali Neri Di plastica Non so se si vedono Penso che si Cioè Vicino che Deve urlare Proprio adesso Come minimo Questi Allora Non ho degli occhiali Ma Tanto sto perdendo la vista Con il lavoro che sto facendo E quindi Ne avrò bisogno E quindi potrò usarli Sono proprio da vecchia Pazza E quindi Li voglio troppo Giusti per me Sì sono da persone Un po' spessiane Quindi sono perfetti Per me Guarda un po' Ma io posso Fregarmene E usarlo come collana Bellissimo Cioè La voglio usare come collana Ho deciso Sì lo userò come collana Mi dispiace Tiger Se ho cambiato Tutta l'utilità Dei tuoi Oggetti Ma Io sono una divinità Quindi posso Quindi non mi dispiace Ultima cosa Mortacchiavi Ma porca miseria Ho trovato anche Delle cose carine Utili strane Però sì Orribilmente Orribile Cioè Veramente orribile È schifo Fatemi mettere Quel titolo È anche Tutta intera Questa È un portacchiavi Con una stella marina Patrick Stella marina E E ha tutti i suoi Svaroschini Tutti a posto Non ce n'è uno fuori posto Quindi Non so perché L'abbiano messo lì Di quale Forse erano Quali dire Mi viene in inglese Quelli dell'estate Summer Mi viene Non so Portacchiavi estivi E qui Ha una specie Di nappina Si chiama così Blu Un po' Ok Presa uno a caso Arancione Non so se Cambia gusto In base al colore E vediamo Secondo me Sono tonde Normali Però la La confessione è carina Me la tengo Per fare qualche Creazione Il resino Colpo di scena Colpo di scena Colpo di scena Colpo di scena Non me la aspettavo Non ci credo Sapevo così Ne prendevo di più Sono formati Un orribile teschio Orribile Perché è brutto 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 È tutto Deformato Perché sono sciolti Essendo di Caramelle Non si vede Ovviamente Non so cosa Si sia visto Comunque Esprissimo Allora Questa è Aspra Che mi sembra Proprio L'arruncio Ah è vero Pizzica Buona però Ho fatto bene A prenderle Sono strane Sono buone Sono a forma Di teschio Provate Sotto Sono dolci Ok Alla fine è venuto Un bel video lungo Ne sono soddisfatta Certo Immaginavo che la busta Fosse uno schifo E certo Ormai io sono una divinità So anche cosa contengono Le buste Prima ancora di comprarle Fanno fare molto salivo A queste Caramelle Certo Comunque Sono delusa Da questa busta No Perché già ero delusa Ancora prima di comprarla Ne comprerò ancora Certamente Perché Mi piace Aprile con te Creatura Queste caramelle Sono super buone Perché dopo Quella cosa Super aspera Riguardo Super dolce Buonissima Allora Creatura Fammi sapere Cosa ne pensi Non so Ho fatto delle domande Durante il video Quindi Se vuoi rispondere Se invece ti sei già Tromenzata Non importa Se sei ancora sveglio Metti like E iscriviti al canale E consiglia Il mio canale A tutti i tuoi amici E a tutte le persone Che conosci A tutti i tuoi profili fake A tutti i tuoi parenti A tutte le persone I tuoi nemici E a tutti Insomma Perché così Arriviamo a questi 13.000 Dai So che Ce la possiamo fare Prima o poi Siamo di fermi Da tipo un anno Comunque Ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Ciao Criatura Buon relax Buon relax